che succesi qua però 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 ragazzi no 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 vabbè tutto tutto blocco 9 punti di penalizzazione che vai a dibattito a te ci diventeranno due o tre serie b serie c radiamento no dovete scomparire vai giù dovete soffrire dovete soffrire non avete capito allora dovete soffrire fin quando ci saremo noi dovete soffrire e basta mamma mia tappate qua dovete soffrire fin quando ci saremo noi dovete soffrire avete capito no serie b serie c radiamento amaro ah non mi rompi tu cazzo sullo stronzato 9 punti di penalizzazione per voi che state soltanto sono buoni sono buoni perché non cambia nulla perché poi vai a processo la difesa parola mia contra tua papà si pateggerà 3 4 punti e levammo bordellamizzo stop serie b serie c aro quando mi piace sognare e poi la campionata ancora non è finita non è detto la campionata ancora deve finire quindi non è detto che tu la classifica non la vedere adesso la devi vedere a fine campionato perché tu li puoi recuperare li puoi superare perché veramente vi pensate che io sto puntando allo scudetto no sei tranquillo ci credo come da tifoso bisogna crederci ma 9 punti di penalizzazione per questa storia poi arrivi a te a me 3 4 punti di penalizzazione e arrivederci ma che faccio a insegnare non sapete niente parlate a vampere serie b serie c serie di radiamente addormiti ciao 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 ciao